Ciao ragazzi sono il Sector e ben ritrovati oggi sul mio canale con un nuovo episodio della serie di Rainbow Quindi da subito mi raccomando spolliciate e lasciate un bel like Perché signori oggi come sempre siamo carichissimi Il tema chi? I cuffioci Ci troviamo su Yoch E se non sbaglio ragazzi ora non vorrei ricordarmi male Non vorrei neanche dirvi una cavolata Ma questa mappa ancora sul canale non ve l'avevo portata Comunque vedete che abbiamo preso Caveira Ma a differenza del solito ragazzi Oggi l'andremo ad utilizzare con il suo fucile a pompa Io l'ho provato in questi giorni l'ho scoperto proprio così a caso Raga ma è una bomba È una bomba quindi voglio provare a farci qualcosina Per farlo vedere anche a tutti voi Ok ora io mi sono messo qua raga perché Voglio vedere se magari qualcuno entra da qua sotto No volevo spaccare per provare a fare lo spawn ma aspettiamo aspettiamo E stiamo a chi vero mo? Allora ragazzi mi sa che da qua non è spawnato nessuno Infatti io non sento proprio niente Quindi andiamo un attimo sopra È tutto chiuso anche lì Allora sono spawnati tutti là in fondo Per forza di cosa raga perché È tutto chiuso Allora piano eh Potrebbero essere qua Calma Madonna Vai in terra raga Io spero che non ci sia Raga c'è termite C'è termite lì raga Come si caggadosmi Cofagia Vai È qua Mamma No mamma ragazzi che bomba Che bomba sto fucile Allora ce n'era un altro lì eh se non sbaglio Ce n'era un altro lì Sto cercando di provare a sentire i passi Comunque raga che giocate Abbiamo usato la granata in patto come diversivo Allora intanto Quello dronino lì Ok Facciamo fuori Ma dov'è Raga non capisco Perché secondo me O è fuori O è sopra Ma non riesco a capire Io comunque rimango qua Pazzichiamo intorno a questa zona Poi Intanto dovrà buttarsi A cannone Tra un paio di minuti Anzi tra un paio di secondi Perché minuti non ne ha È sopra È sopra raga È sopra Eccolo Ah 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 Tuca Coglione A merda A merdolone A cosa volevi fare Mamma mia ragazzi Siamo partiti A cannone 3 kill subito così Con caveira E sicuramente anche loro Si sono Eccoli Lo sapevo ragazzi Qua il primo round Le semporchie Piccola novità invece Per quanto riguarda La fase d'attacco Raga Oggi Vi porto Mister Buck Un operatore Che tanti di voi Volevano vedere E personalmente Devo essere sincero Io lo uso poco Lo uso poco Raga ma Oggi Ve lo voglio portare Vediamo Cosa riusciamo a fare Più che altro C'è un'arma Che tira Delle sghe Raga Che fa paura Allora Le finestre Tutte chiuse Vai Facciamo quello Che ci piace Fare con Buck Un sacco Di bordello Allora Granata in buca No Ok Accentrare i buchi Non sono dei fenomeni Non sono dei fenomeni Tipo una figura Di merda Clamorosa Raga Attenzione Che qua potrebbe essere Da Ho paura raga Che ci sia uno Sempre dietro dalle scale Eccolo Te pareva Te pareva Jäger Minchia Ci ha tolto un sacco Vediamo se riusciamo A prenderlo da qua E se furbo È andato via Infatti adesso Voglio tirare un attimo Il drone E vedere Se è rimasto là Ma sicuramente Avrà cambiato posto Infatti io qua da scale Non lo vedo Siamo due contro quattro Allora Siamo gli Etermite Ok Adesso qua Facciamo saltar tutto Eh no raga È andato via Eh non so proprio Dove si è andato No raga Facciamo una cosa Proviamo a fare Una giocata Fatta bene Abbiamo ancora Un paio di secondi Facciamo il giro largo Io ho paura che sia qua Eh da qualche parte Jäger Ma non ne ho la più Pallida idea Eh no Qua è andato via Adesso È crashato Godo Ha ha È crashato Jäger raga Dai Siamo due contro due Eh no cazzo Smok Figa Potevano trovarci contro Qualsiasi operatore Ma non Smok Dai Etermite No Dai raga Non potevo farci niente Vediamo Eh è morto anche Etermite Ragazzi Hanno difeso davvero bene Più che altro Smok è stato bravissimo Guardate Tutte le entrate Eh ci aveva tirato i fumoggi Era impossibile qua Vabbè dai Una a uno Non è un problema Proviamo a rifarci Adesso Difendiamo noi in cucina Io corro Immediatamente A fare le botole Ragazzi ci sta No figa C'è andato Frozzo Vabbè allora io faccio questa E te fai quella là Dividiamoci i compiti E vediamo di aiutarci A vicenda Bravo Spacca anche i droni Ok mettiamo l'ultima barricata Intanto che ci sia Oh ragazzi Ma qua bisogna chiudere Qua raga bisogna chiudere Altrimenti Si aprono in due secondi Non so perché siamo Tutti ieri in cucina Però Va bene così Siamo a cinque secondi Vai bandit Pensaci te Stai beccando tipo il drone Che bomba Io vado là eh Adesso ragazzi Probabilmente ci entrano Essendo in cucina Secondo me da qua ci entrano Vediamo Eh Cosa avevo detto Mi sto stringendo il culo Come non mai Che se entrano tutti Da qua Io vi saluto Dai L'abbiamo preso Raga Allora Vediamo se Sembrava essere da solo Io la rischio La rischio Va Interroghiamo Eh cazzo Merda Boia L'avevo detto raga È rischiosissimo Ho fatto una giocata Ci è andata bene va Ci è andata bene Eh Devo stare attento Perché lì la finestra è rotta Il problema è che io non li sento eh Sono scappati tutti Ora anche che Mi arrivi No no Eh cazzo Ma sono un coglione Sono un coglione Raga ve l'avevo anche detto eh Appena finito di dire Attento alla finestra che è rotto E infatti adesso beh C'è la davanti Jäger Ma che nador che sono stato Eh sì Qua ho sbagliato io Niente da dire Abbiamo un capcan Incazzato nero Che tira nitro a random Vediamo Dai tre contro tre Cosa fa? Cosa fa Frost? Ma no vai a morire Bombe Cioè ragazzi Beh ma io ve l'ho detto Ma Cioè perché ti devi Io non lo so Che cazzo ti sporgia far Dalle botole Eh stanno anche spaccando Adesso Stanno rompendo Tutti di più E la madonna Non vorrei essere in capcan In questo momento Stanno rompendo un altro Eh ma di Sta facendo saltare tutto Oh mio dio Perché il drone Forse non ha visto capcan Regaffi Grande bomber Adesso entra una cannone Un operatore alleato rimasto No è morto capcan Restano quindici secondi Ce l'hai lì Come ha fatto a non morire Non lo so È immortale Il contenitore di biorischio Rimangono cinque secondi Ha preso la trappola uno Regà ha preso la trappola Mi sa che abbiamo vinto Sono tutto due tre Sono tutto Scemi Ha scemi Ha scemi Le trappole Mamma come c'è andata bene Qua c'è andata benissimo signore C'è da dire che Ci stanno praticamente copiando raga Anche loro in cucina Aspetta che Ok Guardiamo il contenitore Che succede a tutti i punteri A questo giro ho cambiato anche La fase di spawn Siamo Nati qua Ok Vanno tutti Vanno tutti sopra Quindi entriamo Entriamo con loro Bravo Cazzuto così mi piace Cazzuto così mi piace proprio Facciamo una cosa va Spacchiamo qua noi Toc toc Chi è? Sto cazzo Vai presa la telecamera Buono 5 contro 3 Ah è vero che loro sono in meno Hanno già fatto le Grandi raga Grandi davvero Hanno già fatto le Ma che che spacca giù? Hanno anche fatto le botole Vai Ma raga Guarda Che figata Però io sto pompa lo amo Veramente Sfondi tutti di più Voglio dronare un attimo Per cercare di capire Dove sono Perché non Non ne ho la più palle d'idea Andiamo di qua Tra Uh hanno fatto anche sta Eh grande Ibane è un grande Ibane è un grande Ha fatto tutte e due le botole Perfetto E lì stanno facendo saltare Ma chi che è? Ma chi che è? Bomber Ma c'è Doc Ma è solo È solo dentro È solo dentro raga Gli altri due Sono in giro Adesso vediamo di andarlo a prendere Figa Figa Non ci passo Adesso piano eh Mamma Beh ma che comunque che scicchia tira St'arma è una bomba Ma cazzo è un scicchino Praticamente Ok vai Io controllo qua E andiamo Mamma mia Regà Ma che stiamo facendo Ma che scicchia tira Quell'arma qua Porca miseria Ma che roba Pam Gli ho fatto saltare la testa Signori Fino ad ora Tutto alla stragrande Voglio essere sincero con voi Nel dirvi che Avevo paura Sinceramente Ad utilizzare Bacche Come operatore Perché Usandolo poco Sai devo Devo farci ancora sulla mano Quindi è difficile per me E anche con caveira Perché Il fucile a pompa Somma lo sto usando da Due giorni neanche raga Sono tutte cose nuove Però Per adesso Ce la stiamo cavando Intanto Allora Strono è via Qua Ne approfitto per barricare Così se arrivano da qua Devono fare un po' di ciocco E noi siccome siamo Una spina nel culo Essendo caveira raga Che dobbiamo stare in giro Facciamo Un bel buchetto qua Così se entrano da qua Li vediamo Ok Sì ok E stanno Stanno rompendo qua Ok L'ho visti L'ho visti Sono lì sopra raga Come non detto Sono in ingresso principale Hanno rotto una telecamera Mi sa Questa qua sopra Ricarico E io ci andrei anche Su dalle scale Come un kamikaze Ma non la voglio rischiare Vabbè Ma sto qua va a morire Guarda come va a morire E invece no Allora vai Allora vai Vuol dire che Stanno andando avanti Stanno andando avanti Regà Proviamo a fare il giro di qua Lo sapevo Guarda me lo sentivo proprio Grande zio Grande Jäger Vai andiamo di là Ah sono tutti Oh bella Sono tutte e tre qua Beh Giocata tattica ancora Beh l'ha seccato Era Quash Grande Jäger Ok è fuori Adesso Regoio Bobber T'aiuto L'ho preso Non ci credo Grande Peccato però che È a terra Eh vai andate Bravi ragazzi Bravi No vabbè Che bello Avrei preferito L'uccisione Perché così mi ha dato solo l'assist Però Il nostro zampino Anche qua Lo abbiamo messo Raga ne manca uno Questi qua sono Guarda Oh i miei alliati Sono tutti fuori Io Io sinceramente Non vorrei andare Guarda Sono tutti là Che allora lui O è fuori Perché se dentro Ci sta inculando alla grande Infatti io Ne sto qua Si entra a cannone Bella così Grandi ragazzi Grandi 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 Gran partita Non posso dire niente Guardate Poverino Lo stavano bombardando Secondo me era circondato E finisce così 4 a 1 Devo dire che ogni volta Che provo a registrare Ci va anche abbastanza bene Riesciamo a fare Delle belle partite Siamo stati premiati Anche come il miglior giocatore Gran risultato Per quanto mi riguarda E ragazzi Cosa dire Anche il video di oggi Ormai È giunto al termine Mi raccomando Fatemi sapere voi Qui sotto Con un bel commento Cosa ne pensate Spolliciate Lasciate un bel like A me non resta altro Che darvi l'appuntamento A domani Sempre qui sul mio canale Per un nuovo video Dal vostro Esatto da tutto Un saluto Un saluto Nel abbraccione Ciao campioni Ciao campioni Ciao campioni Ciao campioni Ciao campioni Ciao campioni Ciao campioni